Questo grandissimo animale è una vacca. Questi grandissimi animali sono vacche. Appartengono alla specie Bostaurus. Stanno brucando nell'erba. Appartengono alla famiglia dei bovini, al sottordine dei luminanti e della famiglia e dell'ordine dei ricidattini. Il piccolo della mucca si chiama Vitello. Il maschio della mucca si chiama Toro. Sono utili per essere monte, per vendere il latte o il formaggio. Grazie. 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 Grazie.